Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego come trovare la spada della reliquia sacra, una spada buonissima, letale, che fa veramente un sacco di danno, è molto semplice trovarla, basta di ricervi qui all'albero, quindi dove sconfiggere gli ultimi due boss, per quelle che se lo stanno godendo, allora, vabbè, lasciate già stare questo video, anzi, cambiate, perché io voglio farò vedere il boss. Invece per quelli che già sanno che boss è, continuate a guardarlo. Allora, i boss da sconfiggere sono due, quello tizio con il martello, là non ricordo il nome, e la belva incestrale. Anche un po' difficile per quelli che sono di livello bassissimo, io visto che sono di livello 250, se lo dovessi, non so, rifare di nuovo, lo farei a pezzi, veramente lo farei a pezzi. Questo sono io che lo sconfitto al livello 80, guardate un po' quanta vita avevo, vabbè, ho usato anche la runa maggiore. Quindi ragazzi, la spada è molto semplice prenderla, quindi se sconfiggete questo mostro, vi darà una rimembranza, la portate alla tavola rotonda, la date alla vecchia morta qua sopra, proprio lì, proprio qua, ci sarà la rimembranza. Voi ci cliccate sopra e scegliete cosa prendere, o la spada, oppure un'altra arma, cioè il martello, quindi il martello di Marika. Adesso vi faccio vedere un po' dove, allora, eccolo qua, eccolo qua, martello di Marika. Ha la sua stessa magia, solo che è diversa, perché la spada crea un'onda, invece il martello fa tremare la terra. Capito? Tutto qua. Io certe volte uso questa spada per andare a farmare rune, sapete già il posto, perché quello è un famosissimo posto dove farmare tantissime rune, e quindi mi faccio 100.000 rune ogni 5-6 secondi, ma tanto è noiosissimo farsi le rune così, eh. Quindi ragazzi, se il video vi è stato utilissimo lasciate like, scrivetevi al canale, sì lo so è un video brevissimo, ma è un video per farvi capire come ottenere questa spada, non proprio come andarci tutto il viaggio, solamente come ottenerla. Quindi grazie a tutti per questa visione, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!